Grazie professore, mentre il consigliere mi diceva ci saluta, ha un numeroso impegno, oggi l'abbiamo trascinato. Ci sono domande e osservazioni per il professor Ciofi, Claudio Ciofi, non ne vedo, c'è una mia curiosità, come dicevo non sono esperto e quindi oggi perdonerete le mie curiosità un po' banali, però magari è un modo anche per stimolare la discussione, ma quella variabilità di specie che ci mostrava nel sud Italia è un indice che lì ci sono stati dei movimenti di specie, perché per il resto i colori dove c'era una variabilità di specie erano prossimi a quelli di regioni confinanti e quindi un movimento naturale di specie. La variabilità che c'è nel sud Italia è data principalmente da la storia evolutiva della specie, che durante l'ultima glaciazione la maggior parte delle specie si sono rifugiate nella parte della penisola iberica e poi nel sud Italia, per cui sono dei rifugi glaciali dai quali poi i vari individui hanno ricolonizzato la parte settentrionale, quindi durante la ricolonizzazione c'è una parte della variabilità genetica che si sposta e poi nel tempo avvengono dei cambiamenti geografici, anche per causa antropica, per cui non tutta la variabilità genetica che era e era chiusa nella parte originale, poi è riuscita a spostarsi nella parte settentrionale, quindi abbiamo un bacino genetico nel sud Italia e poi delle parti di questo bacino genetico che poi si ritrovano nella parte settentrionale. Grazie, grazie di nuovo per la... Allora inviterei a questo punto il tenente colonnello Francesco Montorzi, grazie tenente colonnello, a presentarci invece la prossima relazione tratta delle attività ispettive che sono svolte dal CUFA nell'ambito ovviamente del CITES, della Commissione e della Convenzione. Prego, anche per lei 20 minuti. 20 minuti. 20 minuti. Allora, buongiorno a tutti, io sono il comandante del nucleo Carabinieri CITES di Firenze e del distaccamento CITES presso l'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. Nella relazione cercherò di spiegare le attività di controllo, di accertamento, ispettive fatte da carabinieri forestali, una specialità dei carabinieri forestali, perché i carabinieri CITES sono una specialità nella specialità. Quindi, come aveva accennato anche il dottor Libè, il commercio internazionale di specie protette dalla Convenzione di Washington ammonta da stime fatte da organismi internazionali a 50-60 miliardi, di cui una buona parte è ancora di origine illegale. Quindi si parla di una monetizzazione dell'attività illegale in ambito CITES che è quarta, quindi soltanto dietro il traffico degli esseri umani, della droga e delle armi. Quindi l'importanza dei controlli dei vari organismi di enforcement che sono deputati al controllo sulla legalità del commercio è estremamente importante. Allora, questo velocemente per dare un quadro della complessità dell'organizzazione della CITES in Italia. Ci sono tre ministeri che si occupano della CITES. L'autorità di gestione è il Ministero dell'Ambiente, la Direzione Generale di Protezione di Natura, che si avvale della Commissione Scientifica CITES come autorità scientifica che rilascia dei pareri tecnico-scientifici. Tra l'altra parte c'è il MIPAF, c'è il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che esplica una funzione di certificazione, certificazione di re-export e certificazione dei certificati per la vendita e lo spostamento di animali vivi, inclusi in allegato a, in primo appendice CITES. In più è anche il compito di autorità amministrativa nei verbali CITES. E per ultimo il Ministero dello Sviluppo Economico, che rilascia certificati di importazione e di esportazione. In tutto questo quadro si inseriscono due forze di polizia militari, i Carabinieri CITES, quindi l'arma dei Carabinieri, e la Guardia di Finanza. Ognuno ha il suo compito in ambiti diversi. I Carabinieri CITES in ambito territoriale, la Guardia di Finanza in ambito doganale. Ora, i compiti però dei Carabinieri CITES non si esprimono soltanto nell'attività di enforcement, ma anche in una vera e propria attività tecnico-amministrativa. Infatti il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ci ha delegato a Carabinieri CITES tutta la certificazione di riesportazione, oltre a quella di UE per gli animali vivi. Inoltre, su questa delega c'è stata data anche l'espletamento delle funzioni di autorità amministrativa. Quindi, cominciamo dalle competenze dei Carabinieri CITES. A livello nazionale, quindi, la cosa fondamentale è nel settore dell'enforcement, del controllo. Quindi, tutti i controlli, allevamenti, vivai, esercizi commerciali, e fra l'altro, nell'attività di enforcement, che però è anche una parte tecnico-amministrativa, ci sono i prelievi genetichi degli esemplari e degli accertamenti su parte dei prodotti derivati. Poi ci sono le indagini sull'e-commerce e attività di polizia giudiziaria, in particolare su operazioni a carattere nazionale, dove vengono coinvolti tutti i nuclei CITES. Ultimamente c'è stata l'operazione low cost e l'operazione internazionale Blizzard. Poi, i rappresentanti del raggruppamento partecipano alla Commissione Europea, al gruppo di esperti e a scambi informativi, tra l'Europol e l'Interpol, sull'attuazione della Convenzione. E poi scambi diretti fra le varie autorità di gestione CITES, che sono delegate al Ministero dell'Ambiente, però dove ci si partecipa anche noi come carabinieri forestali. Questa è la parte che ho descritto e di enforcement. Tutta la parte amministrativa per delega è questa. Rilascio di certificati di re-export, la raccolta delle denunce di nascita in cattività degli esemplari incluse prima, seconda appendice o allegate ai B del regolamento 338, i controlli amministrativi, partecipazione ai controlli sulla direttiva zoo, sulle strutture zoologiche, alle commissioni interministeriali, proprio che determinano l'autorizzazione per l'apertura delle strutture zoologiche. Chiaramente nella CITES ci sono anche gli animali pericolosi, inclusi nella legge 150, quindi controlli in tema di animali pericolosi. E in più delegata, come ho detto, l'autorità amministrativa, che riceve tutti i rapporti, tutte le sanzioni amministrative che vengono fatte in campo CITES. A questo, che è la... diciamo la, come si può dire, l'attività specifica di controllo, di accertamento, di ispezione, come si vuole chiamare, ci sono tutta un'attività di supporto all'autorità di gestione del Ministero dell'Ambiente. Tutti i sopralluoghi che vengono delegati dall'autorità di gestione per il tramite della commissione scientifica CITES, e nei quali anche vengono effettuati i prelievi genetici. Poi supporto alla partecipazione all'autorità di gestione per i workshop a livello nazionale e internazionale, e poi altri compiti di supporto, come il sistema di marcatura di pelli, e supporto logistico per le autorizzazioni della direttiva ZOO. Nell'ambito della commissione scientifica, per norma, è prevista la presenza di un rappresentante dei carabinieri forestali. Ecco, questo è quello che è stato fatto dai carabinieri CITES a livello nazionale. Nel 2018. Questi sono gli accentamenti, questi sono la quantità di esemplari controllati, chiaramente non soltanto animali vivi, ma anche parti e prodotti derivati, i controlli sulle persone, sui veicoli, gli illeciti penali contestati, per violazione alla Convenzione di Washington, gli illeciti amministrativi, i sequestri, e il totale delle sanzioni amministrative combinate sulla 150 del 1992, che è la legge di riferimento, che si arriva quasi a 3 milioni di euro. Questi sono anche i dati, ci sono anche i dati forniti dall'aggruppamento del primo semestre. Anche qui si vede siamo in linea, siamo in linea con quello accertato già nel 2018, siamo già oltre un milione di euro per le sanzioni, e anche come gli illeciti penali sono diminuiti, però siamo sempre, e si parla sempre di centinaia di illeciti penali. Queste sono, per interrompere un pochino, queste sono le specie, chiaramente, in allegato a prima appendice, chiaramente rinoceronte e elefante, gli accertamenti, se non sono sui giardini zoologici, vengono fatti sulle parti e prodotti derivati, chiaramente sul commercio. Mentre, nelle testudo, esiste un commercio ben attivo, con cui, anche per questo, vengono fatti numerosi prelievi genetici, per la discendenza. Mentre queste qui sono esemplari che, almeno a livello dei nuclei, quotidianamente, andiamo a, diciamo, a controllare, gli allevamenti, correlativi, per i labi genetici. Questi sono tutti esemplari, in prima appendice, allegato a, che hanno bisogno della, della, diciamo, della procedura, per avere l'autorizzazione certificativa, per la vendita. Ecco, questa è l'attività di controllo, e certificazione. Questi sono i certificati, rilasciati per, di, di, di riesportazione, quindi, di, di parti e prodotti derivati, da tutti i nuclei, d'Italia. E, fra cui, ci sono, quasi, 10.000 certificati, che, autorizzano, la, vendita, e lo spostamento, di esemplari, in allegato, a, vivi. Poi, ci sono le notifiche di import, i certificati di mostra itinerante, proprietà personale, e tutta la, la varietà di, di certificazioni, che sono delegati, alle carabinieri, CITES, per, e derivanti, dal regolamento, dal regolamento di applicazione, l'865 del 2006. Nella prima parte, del 2019, anche qui, siamo in linea, oltre 28.000 certificati, e già, quasi, 4.000 certificati comunitari, quindi, per vendita e spostamento, di esemplari, e quindi, parte di questi, per la vendita, sono stati soggetti, a, analisi genetiche. Ecco, ora qui, si cambia, questo è un quadro generale, della nostra attività, diciamo, di, di, di spezione. Però, parlando specificatamente, ora, delle, delle analisi genetiche, da dove traggono, origine. Cioè, le, le analisi genetiche, all'inizio, l'ex GFS, ora Carabinieri CITES, hanno svolto, un'attività di promozione, di questa tipologia, di, di indagine. Soprattutto, per, il discorso, di, capire, effettivamente, la, la discendenza, la discendenza parentale, per evitare, appunto, illegalità, dal punto di vista, della vendita, e della, e della commercializzazione, di esemplari, sia nel legato A, che nel legato B. Però, il supporto normativo, derivante, dalla normativa nazionale, è la 150, che è la prima, e direi anche unica, poi ci sono state anche, altre, aggiustamenti, di norme, ma la 150, rimane la norma, per, gli accertamenti penali, e sanzionatori, della CITES, in adempimento, ai primi, regolamenti comunitari, dell'82 e dell'83, e prevedeva, proprio, per gli allegati A, la prima appendice, che, il, le nascite, degli allegati A e B, dovevano essere, denunciate, entro dieci giorni, ai, al corpo forestale, dello Stato, ora carabinieri forestale, che ha, la possibilità, la facoltà, di verificare, l'esistenza dei genitori, e quindi, legame parentale, con questa, con questa specifica, si può avvalere, di analisi genetiche, per stabilire, il grado di parentela, fra i presunti genitori, e la prole, questo, l'accertamento, della nascita in cattività, è, prevedeva, il rilascio, di un certificato, di cui avete visto, la quantità, ora non tutti sono, per, per la nascita in cattività, alcuni vengono fatti, anche per lo spostamento, è un altro, ed è un'altra, tipologia, però, il certificato, prevedeva, espressamente, nel caso, del riconoscimento, della nascita in cattività, l'utilizzo, di tecniche, di analisi genetiche, per stabilire, relazioni parentali, in ambito, di accertamenti, amministrativi, chiaramente, si parla, di accertamenti, amministrativi, ciò non toglie, quando noi, si va a fare, il sopralluogo, nel, nell'allevamento, c'è la, c'è la parte, amministrativa, di procedura, però, c'è poi tutto il controllo sul registro, effettivamente, sul, sul marcaggio degli esemplari, sulla, sulla consistenza, e, e via dicendo. Ecco, l'articolo 55, che è quello importante, della, direttamente applicabile, in tutti i paesi dell'Unione Europea, dice, se un organo è competente, ritiene necessario stabilire, ai fini di tutti questi articoli, non ho visto da leggere, l'ascendenza di un animale, attraverso un'analisi del sangue, di altri tessuti, il detentore, mette a disposizione, l'analisi di suo possesso, o i campioni occorrenti, secondo le modalità, stabilite dall'autorità, medesima. Questa disposizione, è quella ricepita, dall'8-1 bis, cioè, che dice, l'accertamento, delle relazioni parentali, attraverso l'esame dei campioni, viene effettuata, a seguito, della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi, da parte del detentore, che si potrà avvalere di professionisti, da lui stesso incaricati. E qui dovrei aprire una parentesi, se ce la può, forse riesco a aprirla. Tali prelievi, e verranno sempre in presenza, di personale, dei carabinieri CITES, e qualora ritenuto opportuno, dalla commissione scientifica, anche dai membri della stessa, per determinati campionamenti, anche dai membri, della commissione scientifica CITES. Quindi, con tutto questo insieme di disposizioni, comunitarie, che poi sono state recepite dalla 150, e poi anche modificate, nelle varie norme italiane, di recepimento, sono stabilite le modalità, di esecuzione, dei prelievi genetici, per arrivare a un commercio, di specie, in allegato a, in prima appendice, e, diciamo, legale. Ora, velocemente, come funziona l'istruttoria? L'istruttoria funziona, che il, diciamo, l'allevatore, che ha un allevamento, di prima appendice, fa un'istanza, un'istanza rivolta ai nuclei CITES, dei carabinieri forestali, che, esamino l'istanza, che deve essere completa, con i genitori, con l'origine legale, delle recensioni, quindi certificazione, e via dicendo, per poter emettere, un certificato, che deve passare, al vaglio, della commissione scientifica, che può, può, dico, può, richiedere, un sovralluogo, di, in aggiunta, a quelli già fatti, in precedenza, e soprattutto, l'effettuazione, dell'analisi genetiche, sulla prole, che è, in vendita, in commercio. Allora, generalmente, dovrebbe essere fatta, sulle specie, particolarmente rare, cioè, su quelle che, difficilmente, la nascita in cattività, non è che sia, una cosa facile, e gli esempi, li avete visti prima, tutte specie, di ara giacinto, di ara macao, cioè, c'è il tirapace e tutto, però, questa è una decisione, che viene presa, soprattutto, a livello del, del primo, della prima domanda, il primo allevamento, che fa quel tipo, di, di domanda, viene, diciamo, analizzato, anche dal punto di vista genetico, poi, a intervalli regolari, anche per controllo, vengono richieste, aggiornamenti, sul, sulla genetica, e su nuovi nati. Chiaramente, come ha detto, la dottoressa Mucci, questo, da una banca, dei campioni ematici, e dei tessuti, che è fondamentale, poi, anche per, per snellire, il lavoro. Allora, questo è una considerazione, l'analisi, che io, in, oltre 15 anni, di attività CITES, ho visto, c'è quasi sempre, corrispondenza, parentale, fra, nella domanda, fra, i genitori, e la prole. ci sono stati degli esiti, non positivi, cioè, negativi, certe volte, anche per colpa, della, del prelievo, quindi, il materiale, o è deperito, o è, o è, è insufficiente, quindi, non è possibile, altre cose, altre cose, importante, qui dovrei aprire una parentesi, perché, si è detto che deve essere, l'allevatore deve mettere a disposizione, un veterinario, che fa, noi dovremmo presenziare, e basta, vi posso assicurare, che, non dico una maggior parte dei casi, ma i prelievi, chiaramente, non quelli ematici, e non quelli sulle tartarughe, ora, scusate il termine, lo spennamento, dei, degli esemplari, di falchi, e di, e di psittacidi, si fa personalmente noi, perché è tutto, quindi, chiaramente, con tutte le precauzioni, cercando di, di evitare inquinamenti, con guanti e tutto, però, vi posso dire, e non avvengono, non avvengono, in, in una camera iperbarica, avvengono in allevamenti, che, dal punto di vista sanitario, sono stati certificati dalla ASLE, però, insomma, si tratta sempre di, allevamenti, si va d'inverno, nel fango, insomma, questo è una parentesi, che non ho messo, e, andiamo avanti, ci siamo, il limite posto, da, da, da questa tecnica, di analisi genetiche, è il fatto, dell'individuazione, dei riproduttori, in particolare, specie, nelle testudo, le indicazioni, dati dalla commissione scientifica CITES, non tutta, non da tutti, vengono seguite, per l'allevamento, cioè, mettere, il, il maschio, isolato, e, metterlo nel paddock, soltanto nel momento, del, dell'accoppiamento, non avviene così, ho trovato, si sono trovate, anche, delle, veramente, delle situazioni, dove più maschi, si sono, erano in paddock, insieme a più femmine, che succede, quando noi si va, a fare la prova genetica, si analizza, cioè, si preleva una quantità, di campioni, che va, a gravare, il, l'ISPRA, e quindi, con le dovute, accavallamenti, di, di centinaia, di, di, di analisi genetiche, quello, io ho finito, quello che voglio dire, è, forse, anche, sarebbe quasi, importante per noi, avere, il supporto dell'ISPRA, per analisi genetiche, per indagini, per indagini, per certificazioni false, anche per gli allegati B, che sono stati commercializzati, e vengono inanellati, presumendo, l'origine legale, invece, vengono presi in natura, specialmente i falchi, i falchi vengono presi, in natura le uova, e vengono poi, per cosa ho detto, l'insanguamento, e soprattutto, lasciare, a chi è sul territorio, e quindi, ai militari, dei nuclecites, dire quando è necessario, su quell'allevamento, ormai certificato è tutto, la possibilità, di fare analisi genetiche, ma non sul, sulla, ma anche a campione, all'improvviso, perché, sono monitorati, tutti gli allevamenti, sono monitorati, però, un controllo, che si sa, che viene fatto, è diverso, da, una, un input, che si può dare, all'improvviso, perché su quell'allevamento, si ha qualche, dubbio, questo è un messaggio, che io non ho messo, però, è un messaggio, che io do come, come rappresentante, come operativo, di un nucleocites, grazie per l'attenzione. Grazie, colonnello, grazie per la presentazione, se ci sono osservazioni, o domande, se non, se non ce ne sono, invece, ho il piacere, di invitare, il generale Conti, di,